Atti osceni al parco Bartesaghi per un uomo di 74 anni, sanzionato per questo reato dai poliziotti della questura di Sondrio. Il fatto si è verificato venerdì scorso, in pieno pomeriggio, all'interno del parco sondriese e a intervenire è stata la pattuglia in e-bike della polizia. L'anziano, abbassati i pantaloni mostrando le parti intime, praticava autoerotismo dietro un cespuglio dell'area verde. Non era la prima volta per il 74enne già segnalato all'autorità giudiziaria per precedenti specifici. Identificato, l'uomo è stato multato per 10.000 euro. La pattuglia in e-bike è attiva dai primi giorni di agosto nelle aree verdi della città e sul sentiero Valtellina, oltre che nel centro storico del capoluogo. E quello al parco Bartesaghi è il secondo intervento effettuato dopo il fermo di un soggetto pericoloso in piazza Campello, poi espulso dal territorio nazionale. Grazie.